Buona cornice di pubblico al Palacoppola di Monte di Procida per il primo torneo dei campi flegrei di basket internazionale femminile. Tanti spettatori hanno assistito alle partite di questo quadrangolare organizzato dalla GMA del Bo Pozzoli con il supporto della Virtus Monte di Procida e delle amministrazioni comunali di Pozzoli e Monte di Procida. Una competizione vinta dagli Stati Uniti che in finale hanno superato i 10 punti Valencia. È stata una finale bellissima e molto equilibrata per ben 30 minuti. Nel quarto conclusivo la differenza l'ha fatta lo strapotere sotto le planche della giovanissima americana Greener. Nella finale per il terzo posto successo della famiglia Schio sulle campane. Anche in questo match l'equilibrio è stato sovrano per ben due periodi. Nel terzo le partenopei hanno avuto le polveri bagnate e le vicentine le hanno punite volando sul più 13 al trentesimo. Da sottolineare comunque la buona prova di Willipic nell'area pitturata e del Playworld. Per non farsi mancare proprio nulla, ieri la GMA del Bo Pozzoli ha sfidato Yusa, amichevole, vera ed entusiasmante per un tempo, con il luella a distanza tra Mazzante e Greener. Per non sovraccaricare troppo le giocatrici, l'incontro è stato poi trasformato in un allenamento a metà campo senza punteggio. Lo spettacolo non è comunque mancato.